Questa estate online ha esplosa una polemica che ha coinvolto Alessandra Amoroso. Nel mirino è finito un video in cui una fan le allunga un cuscino da autografare, ma lei rifiuta, se lo faccio a te devo farlo a tutti altrimenti gli altri ci rimangono male. Ovviamente l'indignazione è stata alta e la cantante è stata costretta a rispondere con un lungo post, nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Il caso sembrava nato e morto così, ma su TikTok subito dopo il cuscino Gate sono stati caricati altri video simili in cui Alessandra Amoroso ha rifiutato di fare selfie e autografi ai fan. Alcuni anche di qualche anno fa. La motivazione è sempre stata più o meno la stessa, meglio non accontentare nessuno piuttosto che accontentarne pochi e scontentarne altri. Alessandra Amoroso I Team Music Awards Alcuni non capiscono il momento e lo giudicano. Ospite ai Team Music Awards Alessandra Amoroso ha avuto l'opportunità di dire la sua nella social room Grazie Big Family Li amo perché si fidano tanto di me ed hanno sempre avuto rispetto A me è sempre piaciuto molto parlare con le persone Poi sono arrivata al punto che ho capito che alcuni non possono probabilmente capire il momento E lo giudicano E questo loro non lo hanno mai fatto e questo è importante perché non ho mai detto una bugia Non mi sono mai mostrata altro se non semplicemente Sandrina